Entrano così, uno o due alla volta, scortati da polizie e vigili del fuoco, prendono quello che possono alla rinfusa ed escono. Gli sfollati della Villa Celeste sanno che fino a nuove disposizioni sarà l'ultima volta che potranno fare il ritorno nelle loro abitazioni. C'è un'aria mesta questa mattina a Scampia dopo il tentativo di occupazione della passata notte. Le emozioni si alternano sulle facce provate di chi, da giorni, non ha un tetto sulla testa. La paura cede il posto alla rassegnazione, sanno che dovranno salutare quel mostro di cemento e ferro, in cui alcuni vivono da sempre. Poi la rassegnazione si trasforma in rabbia. La decisione di tentare il nuovo assalto non è stata condivisa da tutti. È stata una minoranza, circa una quarantina di persone, a poggiare una passerella nella parte bassa della struttura e a tentare il nuovo blitz. In maggior parte sono le persone che non figurano nell'ultimo censimento, data 2023, e cui quindi non spetta né alloggio popolare né contributi. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni occupanti avrebbero anche minacciato le persone contrarie di impossessarsi delle loro case. Seguono momenti di tensione fino all'arrivo della polizia e degli agenti della Digos. Molti abusivi lasciano la villa alla vista delle forze dell'ordine, gli altri poco dopo. Adesso coloro che non hanno tentato l'assalto sono spaventati. Temono di perdere i sostegni promessi dalle istituzioni, per colpe non loro, anche se dall'ottava municipalità arrivano rassicurazioni. Hanno sbagliato queste persone che hanno occupato, però voi mettetevi nelle loro, cioè qualcuno che sta dormendo in strada, come me in macchina, io ho sistemato i miei figli da qualche parente, ma pure i parenti oggi e domani poi te ne devi andare, non ti possono tenere per sempre. Sicuramente rimarremo abbandonati, ma ognuno di noi che sta all'esasperazione farà sicuramente qualche sciocchezza, cominciando da me che io sto quasi in fin di vita, cioè se devo fare un guaio lo faccio, non me lo credo il problema. Ma perché dobbiamo arrivare all'esasperazione? È successo che hanno occupato il caso perché i guadagnosi volevano lavare e volevano stare in casa loro, perché non possono dormire, le macchine sono stati in coppia in casa. Io non ho paura perché quella è casa mia, quella è casa dei miei figli, mio figlio ieri sera, dove vuoi dormire la mamma, dove andiamo a dormire? Ho saputo come mi ha risposto, vuoi andare a dormire a casa mia. Come manca loro, manca pure a noi che siamo rosso, perché questa è casa nostra, stanno matando, hanno luato il prete nostro, ma prima c'è lui il prete nostro, guardateci prima non a venire e poi c'è luato il prete nostro.